gentili telespettatori buona giornata nelle video precedenti abbiamo visto lo sfogo di burioni che praticamente dice ma il governo mette una multa di 100 euro per chi non si vaccina è una una grottesca buffonata credevo che il governo fosse più serio anche l'altro virologo pierluigi lopalco immunologo ed assessore alla sanità della regione puglia scrive su facebook sull'obbligo di vaccinazione per gli ultracinquantenni inutile commentare potrà avere una valenza individuale per proteggere quei pochi italiani che hanno superato i 50 anni e non hanno fatto alcuna dose di vaccino e non hanno già preso il covid e non si rivolgeranno ad un avvocato dimenticavo visti i tempi di applicazione del decreto gli effetti si vedranno alla prossima ondata gli effetti che invece saranno subito drammaticamente evidenti saranno quelli causati dall'imminente pandemia di tamponite acuta che sta per travolgere il mondo della scuola anche lui si scaglia contro i tamponi che hanno comunque raggiunto livelli di oltre un milione al giorno e poi c'è anche martina benedetti che su facebook lancia il suo sfogo martina benedetti era quell'infermiera 29enne simbolo della lotta al covid dedicata alla fotografia apparsa su tutti i telegiornali che è in servizio al nuovo ospedale a puane di massa e carrara era il 12 marzo del 2020 quando su instagram pubblicò la foto del suo viso segnato dalla mascherina indossata per ore nel reparto per curare i malati di coronavirus e dice 100 euro il prezzo della nostra salute delle nostre vite dei sacrifici che facciamo da due anni soprattutto noi operatori sanitari unici tra l'altro per cui vige un vero obbligo vaccinale per l'ennesima volta saremo noi frontliners a pulire tutto il fango derivante dall'assenza di decisioni forti e coraggiose scelte assurde che ricadranno sulla nostra schiena già gravate da due anni di fatica così l'infermiera benedetti giudica irrisoria la multa di 100 euro per gli over 50 che rifiuteranno il vaccino con ironia all'indirizzo di novax e scrive tranquilli vi faremo tornare a ballare l'estate a far girare l'economia e a bearvi di riconoscimenti per il lavoro da noi svolto definirlo lavoro e ogni giorno sempre più difficile perché è una situazione che ingloba la vita mi auguro che i danni alla nostra serenità psicofisica perduta un giorno tornino indietro cento volte tanto e infine invoca tranquilla karma austria e grecia hanno previsto multe ad esempio ma di diversi importi in austria dal primo febbraio 2022 le persone che persisteranno a non farsi vaccinare dovranno pagare una multa di 600 euro ma i refrattari dovranno rispondere a una chiamata ogni tre mesi quindi ogni tre mesi sono quattro chiamate all'anno 6 12 18 24 sono 2400 euro all'anno di multe per chi non si presenta all'ennesimo rifiuto la sanzione potrà salire però a 3600 euro cioè probabilmente al quarto terzo quarto rifiuto non è più 600 ma scatta 3600 più già quelli i 1800 pagati diventa che in un anno una cifra enorme anche la grecia mette l'obbligo vaccinale a tutti i cittadini che hanno compiuto i 60 anni coloro che rifiuteranno dovranno pagare una multa di 100 euro anche loro però ogni mese in cui non verranno vaccinati a partire dal 16 gennaio quindi diventa una tassa mensile di 100 euro i fondi raccolti dalle multe verranno devoluti agli ospedali greci che combattono la pandemia quindi in grecia sono 1200 euro all'anno in austria abbiamo visto che importi scriveva anche un altro utente su twitter dice sembra curiosa l'idea di convincere con 100 euro di multa persone che ne hanno spesi 540 in tamponi in tre mesi in effetti l'investimento economico di chi ha deciso di non vaccinarsi di avere il green pass temporaneo attraverso i tamponi è ben più alto un altro dice la multa di 100 euro una tantum ma inovax è una delle cose ridicole di questo governo soprattutto se si pensa che i lavoratori non vaccinati al momento spendono all'incirca 200 euro al mese di tamponi proprio per evitare la vaccinazione nessuno ha una calcolatrice a palazzo chigi un altro scrive perché non far pagare a chi rifiuta o rinnega l'obbligo vaccinale una multa di almeno 3000 euro pari al costo pagato da tutti noi per persona di una giornata di ricovero in terapia intensiva una multa di 100 euro è iniqua e risibile un altro dice che il governo draghi ha stabilito in 100 euro la multa per chi non fa il vaccino obbligatorio perché se non ti vaccini vai in cameretta tua senza il dolce pareva brutto semplicemente ridicolo subito quando è uscito vi ho detto che la multa era simbolica perché il governo ha messo una multa simbolica un pro forma perché il governo ha anche esentato quelli che prendono il reddito di cittadinanza dalla multa quindi il novax con il reddito di cittadinanza che ha più di 50 anni non ha nessuna multa da pagare è una discriminazione anche questa vedremo lo sapevo che avrebbe fatto discutere la multa di 100 euro perché la gente ancora primo secondo giorno diceva forse ho capito male adesso vediamo leggiamo bene ma subito era trapelato nel decreto la multa dei 100 euro anzi si era parlato da 60 a 3 mila poi hanno stabilito 100 io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti siamo anche poi nell'altro canale di youtube che si chiama teleitalia seconda rete dove trovate video di politica di notizie e di fai da te questi video che trovate nei due canali teleitalia teleitalia seconda rete dopo qualche ora vengono condivisi nella pagina di facebook che si chiama teleitalia dove lì se vi sono interessati li potete condividere anche voi mentre nella community qua del canale ci sono dei sondaggi e altre cose alle quali potete partecipare e commentare grazie nuovamente e buon proseguimento di giornata a tutti quanti grazie a tutti